Siamo qui con Serena, una ragazza giovane, siamo a Taormina, siamo a Taormina Film Fest, Serena è tanto presente, che dice proprio se hai detto. Buonasera a tutti, mi chiamo Serena Pedrelia, ho 17 anni e vengo appunto da Taormina. Frequento l'iceo linguistico e come tutte le ragazze della mia età ho un sogno, ovvero quello di entrare nel mondo del cinema e anche della moda. Speriamo che sia una persona. Vengo a scegliere, fra il cinema e la moda, una ragazza da tua età. Perché? Mi piace di più al momento, magari crescendo manierò anche altri pensieri, però per adesso quello che mi interessa è quello che mi sento più sicura. Ecco, ma una ragazza carina come te sta anche studiando? Certo, io frequento il liceo linguistico già a Rangestecino, sono al quarto anno e faccio l'inglese, francese e l'esplosione, spero di poter quindi anche... I risultati sono buoni? Sì, ottimi, ottimi. È importante. Perché per riuscire a coordinare sia il lavoro che lo studio devo cercare di andare bene. a noi che auguriamo tanta fortuna, ma con te c'è anche Maria Clara Ocera dell'Agenzia... Maria Clara, qualcosa su questi ragazzi, come l'avete tutta l'arco la vostra esperienza? Consiglio. Sì, diciamo poche parole perché sennò poi saremmo troppo promissi. Io consiglio sempre ai ragazzi di partire dal basso, dalla modestia, essere innanzitutto se stessi, la semplicità, imparare tanto, fare tanto studio, non essere subito sul palco scenico perché voglio buttarmi sul palco all'inizio. Bisogna prima studiare, bisogna prima imparare, essere sempre dietro alle persone che già fanno questa attività da tanto, 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 tanto e poi essere naturalmente, avere qualcuno che possa dare una mano nella, diciamo, nella propria conoscenza, nel proprio marketing e quindi, insomma, se cerchiamo di fare io con Serena, è quello che possiamo. Vogliamo salutare con un bacio, con un saluto Serena e Clara, un saluto ai tue spettatori. Arrivederci, alla prossima.